Ciao, eccoci con un nuovo video e eccoci con l'ultima lezione del minicorso sui sistemi dinamici. Chiaramente si potrebbe aggiungere molto a questo minicorso, ma l'ho pensato appunto come qualcosa di introduttivo e più o meno autocontenuto insomma, quantomeno per presentare i principali argomenti e poi si potrebbe approfondire in moltissime direzioni e ogni tanto ho dato qualche spunto insomma per approfondire. Quindi chiudiamo l'argomento della stabilità all'Aliapunov che ho ristretto in un paio di video e in un paio di lezioni quando in realtà è un argomento super importante, per esempio utilizzatissimo nel campo della teoria del controllo per parlare appunto di stabilità ma anche per costruire controlli dei sistemi dinamici insomma quindi per far sì che questi si comportino in modi prestabiliti e desiderati. Quindi si potrebbe dire molto, si potrebbe parlare anche di funzioni di Iliapunov dipendenti dal tempo e molto altro però ci limitiamo semplicemente a vedere un paio di esempi e in caso più avanti potremmo tornare su questi argomenti senza alcun problema. Ok? Quindi vediamo un paio di esempi di stabilità all'Aliapunov. In questa lezione conclusiva quindi vedremo due esempi di stabilità all'Aliapunov. Il primo è legato a un sistema lineare e il secondo un sistema non lineare giusto per far vedere che in entrambi i casi si può ottenere qualche risultato. Ok? Per i sistemi lineari sono anche note varie costruzioni di funzioni di Iliapunov solitamente si vanno a ricercare funzioni di Iliapunov quadratiche e ci sono vari risultati. Per esempio c'è la nota equazione di Iliapunov che sostanzialmente ti dice che qualora soddisfatta quella matrice che definisce tale equazione ti permette di definire una funzione di Iliapunov quadratica per il sistema. Mentre in generale per sistemi non lineari è molto complesso e non c'è un modo deterministico o comunque sistematico per trovare funzioni di Iliapunov eventuali per il sistema. Nonostante esistano teoremi di sufficienti che ti dicono sostanzialmente che qualora l'equilibrio sia stabile e allora tale funzione di Iliapunov esista, insomma. Però questo è solo un risultato di esistenza e quindi è difficile in generale costruire queste funzioni. Quindi partiamo con un sistema lineare. Di questa forma qui, z punto uguale a meno 1, 0, 0, meno 2 per z. Questo è chiaramente un sistema dove l'equilibrio è solo l'origine perché la matrice è non singolare. Abbiamo due autovalori, entrambi reali, entrambi strettamente negativi. Quindi l'origine sappiamo già essere assintoticamente stabile. Tuttavia ho deciso di usare questo esempio per far vedere come si può arrivare allo stesso risultato usando una funzione di Iliapunov molto semplice. Questa funzione di Iliapunov è a meno del fattore un mezzo la norma al quadrato del vettore z, ok? Quindi z e xy. Usiamo la candidata a funzione di Iliapunov perché è sbagliato parlare di funzioni di Iliapunov fin da subito. Prima dobbiamo mostrare che essa decresca lungo le soluzioni. Quindi la norma, qua ho dimenticato un fattore fratto 2, insomma, però l'idea è che va bene anche al quadrato senza il fratto 2. L'ho messo semplicemente perché così va a bilanciare i due delle derivate e non abbiamo coefficienti inutili da portarci dietro, insomma. Quindi il sistema linea è lineare e A è non singolare quindi abbiamo un solo equilibrio nell'origine. z uguale a 0 e f di z uguale a 0 in z uguale all'origine, no? Ok, sì, qua ho scritto un po' di cavolate nel senso che questa f non è una f ma una v quindi scusami, comunque f non ce ne sono oltre a qua quindi f è uguale a v, ok? Quindi abbiamo che v nell'origine, nell'equilibrio unico del sistema è 0, come vogliamo poi abbiamo che v è sempre maggiore o uguale di 0 e questo va benissimo ed è uguale a 0 se soltanto se z è uguale a 0 ottimo anche qui resta da vedere che la nostra funzione v decresca lungo le soluzioni quindi che la derivata di lì, lungo il campo di v sia minore o uguale di 0 o ci aspettiamo strettamente minore di 0 in questo caso quindi calcoliamo la derivata di lì estra non è altro che il prodotto scalare tra il gradiente di v valutato in z per il campo x in z quindi inserendo le nostre informazioni abbiamo che, semplicemente facendo due conti otteniamo che questa derivata di lì è meno x quadro meno 2y quadro notiamo poi cosa? che questa è minore o uguale di 0 ma è minore sempre di 0 a meno che x e y non siano entrambi nulli quindi vuol dire che la nostra funzione v decresce strettamente all'esterno su r2 esclusa l'origine quindi ciò ci porta a dire per i teoremi di stabilità di Apunov che il nostro equilibrio è assintoticamente stabile come sapevamo già insomma però l'abbiamo confermato utilizzando, sfruttando questa teoria di stabilità all'Aliapunov benissimo passiamo a un sistema altrettanto interessante insomma non lineare in questo caso ne abbiamo uno ne ho scelto uno semplice che è questo qui x punto uguale a meno x y quadro anche qui è un sistema planare definito quindi su r2 e y punto è meno y meno y per x quadro quindi il nostro campo vettoriale x maiuscolo di x y è questo qui lui ha un equilibrio che è l'unico equilibrio nell'origine 0,0 problema qual è? perché ho deciso di portare questo esempio? perché abbiamo finora visto che spesso la linearizzazione è uno strumento interessante per studiare la natura di un equilibrio e questo ci è garantito in certe circostanze dal teorema di Arman-Gromman però ci sono delle circostanze in particolare quando l'equilibrio non è iperbolico in cui la linearizzazione fallisce in questo intento e quindi ci servono altri criteri i teoremi di stabilità all'Aliapunov vanno proprio in questa direzione quindi tanto vediamo che la linearizzazione fallisce semplicemente ho calcolato la jacobiana di questa funzione vettoriale di questo campo è questa qui valutata nell'origine otteniamo una matrice di questo tipo 0,0,0,0,1 che ha due autovalori reali distinti solo che uno dei due è 0 quindi l'equilibrio non è iperbolico e quindi la linearizzazione non ci dice nulla sul comportamento intorno al nostro equilibrio quindi cerchiamo una funzione di Diapunov benissimo la candidata a funzione di Diapunov anche in questo caso è la norma al quadrato fratto 2 di z quindi v di x y è un mezzo x quadro più y quadro anche in questo caso chiaramente v di 0 è 0 con 0 intendo l'origine v è sempre maggiore o uguale di 0 ed è uguale a 0 se è soltanto se x y è uguale a 0,0 resta da calcolare se da valutare se v decresca o meno lungo le soluzioni quindi la derivata di lì e poi in caso potremmo concludere quindi abbiamo che la derivata di lì lungo x di v è uguale al gradiente di v scalare x facendo due conti quindi otteniamo che questa è uguale a meno y alla seconda per 1 più 2x alla seconda qual è la cosa interessante qui che il motivo per cui ho scelto di portare questo esempio la cosa interessante qui è che questa quantità qui è senz'altro minore o uguale di 0 sempre perché questa è maggiore o uguale di 0 e questa è sempre minore o uguale di 0 qual è però la differenza rispetto a prima la differenza è che se per esempio prendiamo il punto 1 0 quindi x uguale a 1 y uguale a 0 questa quantità è uguale a 0 nonostante il punto 1 0 non sia all'origine e quindi abbiamo che la nostra v non decresce strettamente lungo il campo ma non cresce lungo il campo quindi è non crescente la derivata di lì è minore o uguale di 0 quindi qual è la cosa interessante da concludere semplicemente che grazie a questa funzione di Lyapunov possiamo concludere che 0 0 è un punto di equilibrio stabile perché abbiamo questa funzione b di Lyapunov non però non possiamo concludere che sia asintoticamente stabile e ci fermiamo qui cosa vuol dire questo? vuol dire che potenzialmente fermandoci qua non possiamo dire altro che il nostro equilibrio sia stabile potrebbe essere che cambiando funzione di Lyapunov vedremmo una decrescita stretta in tal caso potremmo concludere che l'equilibrio è asintoticamente stabile ok però fermandoci a questa funzione b concludiamo semplicemente che il nostro equilibrio è stabile ok che va benissimo e ci accontentiamo per questa lezione questo video insomma quindi con ciò direi che possiamo chiudere questa ultima lezione del minicorso sui sistemi dinamici magari più avanti farò una lezione di recap giusto per presentare in maniera riassuntiva quello che abbiamo visto e potenzialmente quello che penso di presentare in altre circostanze più avanti insomma ma con ciò direi che possiamo veramente chiudere il minicorso se hai domande su questa lezione sulle precedenti lascia pure un commento qui sotto e cercherò di darti una mano qualora ne sia in grado insomma il primo possibile con ciò ti saluto e ci vediamo alla prossima allora ciao